buongiorno a tutti come sempre abbiamo proposto una canzone con un video perché in attesa che tutti accedano all'aula condivido le slide prima di cominciare intanto abbiamo vi diciamo perché abbiamo scelto poi questa questa canzone in realtà stiamo per questo blocco di webinar dedicati diciamo alla storia abbiamo scelto tutta una serie di canzoni che parlano di guerra e questa era una canzone dei the straits del 1985 che appunto parlava della guerra nelle folkland e poi nei prossimi webinar vedremo quante altre canzoni sono state dedicate alla guerra questo per far capire che in realtà in ogni epoca noi di altra sperimentiamo viviamo una guerra ora diciamo questo introduce anche un po questa terza lezione la terza lezione che dal via diciamo un po un blocco storico che si chiama appunto lo sguardo degli altri l'immagine dell'ue nel maghreb vi ricordo che appunto sono partiti ora è partita ora l'edizione 2022 delle elezioni d'europa che prevede in tutto 15 webinar abbiamo iniziato il 10 marzo e termineremo il 23 giugno con qualche pausa sia per il weekend quello del 25 aprile ma anche quello del 2 giugno dopo diciamo questa introduzione storica eh che quest'anno ha questo diciamo taglio di vedere anche un po che cosa pensano gli altri paesi dell'unione europea e quindi in particolare attenzione avremo il maghreb cosa pensa la scena e la russia ma anche il blocco dei balcani eh dov'è che avremo dei webinar un po più specifici dove si parlerà di green deal europeo pnrr eh del digitale parleremo anche di intelligenza artificiale con due ultimi appuntamenti invece dedicati a quelle che sono le fonti di informazione dell'unione europea e quindi anche ai finanziamenti europei e avremo un appuntamento specifico su come si presentano proposte di progetto eh nell'ambito dei finanziamenti diretti dell'unione europea chi può partecipare alle elezioni d'europa tutti i cittadini che sono interessati a queste tematiche possono semplicemente registrarsi sul sito di eventi PA e quindi poi partecipare al percorso ma chiaramente è anche possibile partecipare alle singole iniziative quindi non siete obbligati a eh seguire tutte le lezioni però chiaramente se resterete con noi ci farà molto piacere. Eh ulteriori informazioni sul ciclo li potete avere dai centri europe direct che sono partner di questa iniziativa e lo ricordo attualmente i partner sono eh siamo noi appunto lo europe direct room innovazione presso il forum EZPA eh il centro europe direct dell'università eh di Siena che in qualche modo è stato anche l'idiatore di questo percorso e mh e ancora sono stati coinvolti i centri europe direct del consorzio universitario di Trapani in Sicilia e anche dell'università di Roma tre. Eh l'attestato di iscrizione questa è una cosa che ci chiedete tutti e in realtà l'attestato vi viene inviato una settimana dopo l'evento dopo che ci sarà una verifica da parte dello staff della vostra presenza al webinar. Eh ricordatevi che avete diritto all'attestato soltanto se avete affruito di almeno della metà delle ore di durata del webinar altrimenti noi non attestiamo la vostra partecipazione. Dopo che avrete ricevuto una mail da parte dello staff in cui vi diciamo che abbiamo attestato la vostra presenza e tenete presente che questo più o meno prende una settimana di tempo eh solo dopo voi potrete andare a compilare il questionario di valutazione e quindi scaricare il certificato di iscrizione. Come vi dicevo noi siamo alla terza lezione abbiamo un'altra lezione giovedì prossimo dove parlere sarà sempre del gruppo dello sguardo degli altri questa volta però parleremo dell'immagine dell'Unione Europea in Cina e in Russia che tra l'altro è un tema di grandissima attualità. Eh la lezione di oggi la verrà introdotta dal professor Montini eh interverranno sia la dottoressa Aloschi dell'Università di Bologna che è la dottoressa Poletti eh che è una giornalista che si occupa appunto dei temi in rente il Maghreb. Eh per quanto riguarda la prossima lezione quella di giovedì prossimo eh interverranno Barbara Onnis dell'Università di Cagliari e Nona Michelizze spero di averlo pronunciato bene dell'Istituto degli Affari Internazionali eh che è qui a Roma. Eh in più vi ricordo che esiste una pagina dedicata alla politica di vicinato europea dove potete tra l'altro scaricare la documentazione riguardo a tutti i paesi che sono coinvolti eh nella politica di vicinato che come lo sappiamo oltre al Maghreb ehm fanno parte della politica europea di vicinato anche tutti i paesi che sono nati diciamo dal dal crollo dell'ex Unione Sovietica. In più eh come sapete esiste anche un eh uno strumento eh finanziario dedicato alla cooperazione con i paesi del vicinato che è appunto lo strumento internazionale per la cooperazione, lo sviluppo e il vicinato di cui potrete eh trovare ulteriori informazioni sia sul sito della Commissione Europea dedicata oppure nella nostra banca dati dei finanziamenti europei dove eh la scheda è accessibile in lingua italiana e queste sono appunto le la la pagina dei programmi comunitari eh dedicata a tutti gli strumenti finanziari dell'Unione Europea e segnalato in rosso appunto c'è la la scheda dedicata allo strumento di vicinato a cooperazione allo sviluppo di cooperazione internazionale che si chiama appunto anche Europa Globale. In più vi ricordiamo sempre che i relativi bandi relativi a questi finanziamenti li trovate nella banca dati bandi che è presente sul nostro sito europa.formets.it. Come sempre vi ricordiamo la nostra newsletter vi iscrivevi alla newsletter perché se vi iscrivete alla nostra newsletter date il consenso al trattamento dei dati quindi noi poi possiamo inviarvi gli invichi a tutte le attività che organizziamo così come altra un'altra sezione importante è quella delle notizie dove potete trovare tutti gli aggiornamenti dall'Europa che vi forniamo quotidianamente. Vi ricordo che siamo sempre a vostra disposizione se volete parlare con noi inviateci una mail così come potete inviare una mail a tutti gli Europe Direct partner dell'iniziativa dopodiché vi contattiamo. Nel caso dello Europe Direct presso il Formets di Roma in tempo di Covid abbiamo attivato uno sportello informativo online e quindi ci possiamo incontrare online se avete bisogno di ulteriori informazioni relative alle notizie sud Europa. Non voglio dilungarmi vorrei invece dare la parola al professor Montini chiaramente ringrazio tutti i relatori ma anche tutti i nostri partner così come i partecipanti che come sempre vedo abbastanza numerosi. Quindi lascio la parola al professor Montini. Se cortesemente Massimiliano perfetto grazie. Buongiorno a tutti e ringrazio alla dottoressa Salvi ringrazio Claudia per questa sempre utile introduzione che ci ha introdotto alla giornata di oggi e anche ha fornito le notizie per chi deve appunto gestire la propria iscrizione ai nostri ai nostri seminari e avere appunto le attestate ha fornito anche tutti i link che vi sono utili per continuare a seguire le nostre attività dei nostri Europe Direct che sono appunto uniti in questo progetto delle lezioni d'Europa 2022 che oggi appunto è giunto alla terza lezione del nostro del nostro ciclo. Allora oggi in realtà la lezione è stata organizzata e promossa dal mio collega il professor Pasquinucci che però al momento ha stamattina qualche problema di connessione per cui non riesce adesso a fare l'introduzione ma proveremo a farlo intervenire poi magari dopo le due relatrici per un suo commento sulle relazioni magari nella fase iniziale poi del dibattito che ci sarà con le vostre domande con le domande di voi partecipanti. La lezione di oggi è una lezione che inaugura questo miniciclo sulla sulla parte dell'immagine dell'Unione Europea diciamo all'esterno in particolare oggi guarderemo all'immagine dell'Unione Europea nel Maghreb con particolare eh focus vedremo sulla Tunisia ma anche su alcuni degli altri paesi eh del Maghreb e chiaramente questa è un'area strategica eh per l'Unione Europea ed è particolarmente interessante la chiave di lettura che le due relatrici eh ci proporranno che è quella del di analizzare lo sguardo degli altri cioè non tanto cosa fa l'Unione Europea in questi paesi o diciamo non solo cosa fa o cosa intende fare l'Unione Europea in questa area geografica ma qual è la percezione che in questi paesi c'è dell'Unione Europea per questo il titolo lo sguardo degli altri che noi utilizzeremo in questa lezione e anche la prossima settimana perché ovviamente eh non vogliamo dare un'immagine solo eurocentrica delle relazioni dell'Unione con i paesi vicini ma anche capire qual è la percezione dell'Unione in questi paesi e forse mettendo insieme eh lo sguardo che l'Unione ha diciamo la visione che l'Unione ha di se stessa con la visione che hanno gli altri forse riusciamo ad avere una immagine più completa di di qual è la percezione veramente dell'Unione Europea in questi paesi che sono chiaramente aree strategiche eh direi sempre eh oggi forse in questo momento di crisi ancora di più e quindi è importante che ci sia una ehm un approfondimento su sulla su questi paesi e naturalmente per fare questo noi abbiamo chiesto di intervenire a due relatrici specializzate e che hanno vissuto e che e che vivono eh in questi paesi e che quindi ci possono raccontare una realtà eh vissuta diciamo ehm la prima relatrice a cui tra un attimo cederò la parola è la dottoressa Chiara Loschi che è ricercatore postdoc all'Università di Bologna e che si è occupata anche in altre università ha avuto eh ha lavorato prima all'Università di Vienna si è occupata dal punto di vista di una scienziata politica del del tema del del Maghreb e eh oggi ci introdurrà al al tema oggetto della nostra lezione guardando al ehm quadro del partenariato europeo eh nel rispetto al Mediterraneo e con particolare riferimento all'area del Maghreb quindi ringrazio la dottoressa Loschi per aver accettato il nostro eh invito e ehm aspetto a presentarvi l'altra relatrice la dottoressa Poletti che poi presenterò dopo quando ehm darò a lei la parola e quindi do subito la parola alla dottoressa Loschi non so se ha delle una presentazione in quel caso la può la può direttamente caricare. Dunque faccio condividi schermo giusto? Esatto dovrebbe dovrebbe semplicemente essere già abilitata a condividere lo schermo ecco dovrebbe partire perfetto adesso basta mettere tutto schermo eh perfetto la vediamo bene e quindi io a questo punto sì sì la vediamo bene quindi le cedo la parola e la ringrazio. Grazie mille e io vi ringrazio per per avermi e per averci chiamato mi sembra un'ottima occasione per discutere di qualcosa eh in maniera creativa e anche molto molto concreta. Ahm io ho intitolato la presentazione che poi discuteremo Unione Europea e eh il Mediterraneo e eh vorrei partire con una riflessione un pochino di più ampio respiro un po' meno eh tecnica per eh interrogarci su cosa può essere il Mediterraneo su cos'è il Mediterraneo. Eh partirei eh definendo già eh il fatto che sia difficile definire una e concentualmente il Mediterraneo come una regione e soprattutto può distogliere l'attenzione da specifici processi sociali politici e culturali che eh ci sono eh che vediamo oggi e che in realtà sono il risultato di un lungo percorso di di una lunga storia di 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 connessioni e di molte dimensioni. Eh ci sono innegabili interconnessioni tra sponda nord e sponda sud che è fatta sia di dominazioni che di occupazioni coloniali costanti plus di persone e gruppi ma anche di scambi eh culturali linguistici e eh direi anche influenze reciproche. E mi piace mi piacerebbe citare qui uno storico francese molto molto importante e molto interessante Ferdinand Prodel eh che è autore tra mille altre opere di eh il Mediterraneo in Italia edito da Bonpiani eh che per primo sottolinea il ruolo dei fattori socio-economici eh determinanti momenti chiave della storia eh della regione e soprattutto eh mettendo tutti gli elementi in interconnessione. Adotto un approccio sistemico che intreccia una storia sociale, culturale, la filosofia, eh analizza le relazioni economiche tra le regioni in uno scambio di eh flussi costante. Ed è qui che possiamo almeno nelle scienze sociali parlare dell'inizio di un'idea di Mediterraneo eh in senso molto molto più ampio. Quindi mi piaceva dare diciamo una 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 cornice di questo genere alla discussione eh di oggi. Eh una mappina per eh posizionarci un pochino di cosa parleremo oggi. Dal Marocco, Algeria, Livia, Egitto, eh con la Tunisia lì poverina piccolina al centro ma eh anche lei molto molto importante. Sono questi le i paesi di cui eh oggi parleremo e mi piaceva anche qui condividere, darci una collocazione eh geografica. E eh non si può considerare Mediterraneo una linea di frattura, le dinamiche noi le intendiamo spesso eh molto più complesse di una semplice divisione tra nord e sud, sviluppo, sottosviluppo, democrazia, autoritarismo, islam, cristianesimo. Sono tutte categorie che eh si usano ma che in realtà eh spesso eh rischiano di nascondere una realtà molto più complessa. Eh bisogna ricordare anche che eh con la fine della dominazione coloniale, con l'indipendenza e ehm processi di eh globalizzazione economica. I paesi mediterranei interagiscono col sistema internazionale in maniera complessa eh in tutte le direzioni. Quindi non solo eh nei confronti di paesi europei e americani ma anche eh di altre eh regioni, paesi dell'Oriente, paesi africani. C'è tutta una eh diciamo dinamica di equilibri che eh da un punto di vista dei paesi del Nord Africa è molto più complessa di quella che potremmo avere noi pensando e eh parlando da eh paesi europei con innegabili rapporti di forza. E mi piace quindi poi introdurre quindi la lezione di oggi dicendo che ci sono grandi momenti storici chiave, momenti chiave, sono di critici piuttosto che eh dicotomie. Eh la costruzione mediterranea si basa un po' su 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 questi diciamo momenti storici chiave più che eh prospettive di di dicotomia. E quali sono questi paesi? Li abbiamo visti sulla mappa e eh mi piace mi piacerebbe partire da eh ricordando che l'ultimo diciamo l'ultima fase di colonizzazione ha riguardato molto da vicino un paesi eh del Nord Africa alla fine del diciannovesimo secolo. E eh questo last scramble for Africa come è stato definito da storici eh ha riguardato eh ha determinato diciamo la fine del dominio dell'impero ottomano eh su anche su questa regione. Il Marocco diventa un protettor è un protettorato francese nel 1907 spagnolo e eh non tutto il territorio ovviamente. L'Algeria è una colonia francese dal 1830 al 1962. La Tunisia è un protettorato francese dal 1885 al 1956. La Libia è colonia italiana. Il 1912-1943 l'Egitto è sotto un protettorato britannico. Eh la storia della colonizzazione italiana della Libia si può discutere non era la l'obiettivo principale perché era la Tunisia ma eh il potere negoziale internazionale scusate sullo scacchiere era molto relativo e quindi poi siamo eh arrivati a questo diciamo questa mappa di eh occupazioni coloniali del nord Africa. Come vedete ehm prima la Libia con la seconda guerra mondiale eh l'Egitto nel cinquantadue cinquantasei sessantadue sono questi momenti chiave in cui i paesi poi eh cominciano eh così come altri paesi eh del continente africano a eh avanzare verso la eh l'indipendenza con guerre anche non non per forza processi molto pacifici eh dichiarando l'indipendenza da eh queste occupazioni eh coloniali di di dei paesi europei. Eh da un punto di vista economico qui cominciano diciamo i primi snodi importanti. I governi eh dei paesi arabi puntano in un primo momento negli anni sessanta settanta a quel verso politiche di industrializzazione che dovevano ridurre le importazioni, dovevano caratterizzare diciamo una maggiore autonomia nelle economie per eh per marcare un'indipendenza ovviamente di tipo economico e eh quindi avviavano avviavano una massiccia produzione industriale sponsorizzata dallo Stato con un'assunzione di mano d'opera però che poi divenne in esubero si crea diciamo un corto circuito per cui eh gli Stati si trovano costretti a subvenzionare questi dettagli per prodotti che non potevano essere esportati su mercati mondiali eh mantenendo tassi di cambio sopravvalutati e l'inflazione interna e il debito cominciano ad aumentare. La crisi del settantatré eh che eh conosciamo e e potremmo anche dover ristudiare ehm provoca un aumento di prezzi di petrolio e rivela la debolezza di alcuni di questi paesi agli shock esterni soprattutto per gli stati poveri di petrolio eh come la Tunisia eh che sono tra i più colpiti che cominciano a capire di essere economicamente diciamo in una posizione subalterna rispetto a paesi invece del Nord Africa che eh il petrolio eh l'avevano o altre fonti di 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 come dire di potenza energetica sullo scacchiere avevano già eh trovato. Si apre quindi una prima fase di liberalizzazione economica nei paesi del Nord Africa eh ci si orienta eh verso il mercato mondiale e i paesi cominciano a guardare all'Europa. Eh tuttavia la recessione degli anni ottanta riblocca di nuovo diciamo una prima un primo sviluppo che sembrava promettente di nuovo si ritorna eh paesi tornano a confrontarsi con la loro alcuni con la loro debolezza nei confronti dei mercati quindi la Tunisia di nuovo si ritrova a a doversi eh come dire trovare una soluzione e e riordinare la bilancia dei pagamenti ed è qui che eh a livello di eh grandi situazioni finanziarie si comincia a parlare di interventi strutturali quindi mh e su questo mi fermerò qua ma giusto per darvi un quadro Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale cominciano a eh strutturarsi e strutturare interventi finanziari non solo nei paesi del Nord Africa questo avviene anche in America Latina e nel continente africano però ehm si basa si si crea un intervento economico basato su tre pilastri stabilizzazione riforme strutturali che i paesi devono portare avanti e privatizzazione in cambio diciamo di eh di 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 prestiti che vanno a eh in qualche modo eh aiutare le economie nazionali. Questo è un modello di condizionalità per cui dal dalla riforma del governo locale, la riforma delle pensioni, la riforma di una di tutti i settori chiave e e anche economici del paese e grandi situazioni finanziarie chiedono a ai paesi e e questo è molto eh molto evidente soprattutto in in Tunisia ma ovviamente anche in altri paesi perché la Tunisia è molto esposta. Questo marca una differenza con l'Europa nel senso che in questo momento l'Europa non ha questo potere rispetto alla Banca Mondiale ma eh la Tunisia comincia a entrare nel come dire nelle nella metà degli anni novanta nella nell'ottica degli degli accordi di di scambi eh commerciali con l'Unione Europea ma ovviamente è la Banca Mondiale in questo momento al momento internazionale eh sono loro gli attori più più importanti. Questi programmi sono programmi che veramente mirano a rifare a ricostruire eh i presupposti delle strutture economiche nei paesi eh del terzo mondo ma in questo caso del del Nord Africa. Eh al tempo senso politicamente eh nel periodo della guerra fredda c'è eh un impatto su eh la eh le relazioni tra paesi arabi nel senso che ci sono paesi arabi che si posizionano proprio secondo l'asse eh Stati Uniti-Russia alcuni di loro si dichiarano non allineati come l'Algeria anche se poi magari ha una come dire una certa flessibilità nel considerare i rapporti con con altri stati e con e con la Russia ma impatta evidentemente le relazioni anche tra paesi arabi correando anche delle linee di fratture di conflitto. Ovviamente i conflitti israelo-palestinese ma c'è molto di più eh guardando al conflitto tra Algeria e Marocco eh soprattutto sulla eh gestione del della del territorio del Sahara occidentale e anche tra Egitto e Libia ci sono una serie di frizioni a livello di di confine. Ricordiamo inoltre che i confini come li abbiamo visti sulla mappa sono confini tracciati diciamo nella fase di postcolonizzazione che spesso non corrispondono a una definizione locale di paesi del Nord Africa di dove finisce un territorio dove inizia l'altro cioè diciamo che la concezione soprattutto guardando le linee dritte di Algeria eh Livia ed Egitto si capisce che è un'operazione a righello diciamo fatta su una su una mappa per 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 eh per stabilire rapporti di potere che erano più funzionali forse al polo europeo che 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 quello locale e con la fine della guerra fredda si ricrea un sistema mondiale eh diverso e in questo momento l'Unione Europea comincia a eh costruire un ruolo più eh importante continueranno a esserci attori finanziari fondamentali per le economie però l'Unione Europea effettivamente comincia a intanto accelerare sul suo processo di integrazione interna definisce una politica eh estera e ehm ci sono non solo gli eh le relazioni tra i stati membri dell'Unione Europea e i paesi del Nord Africa ma si comincia a ragionare eh di un progetto europeo eh di partenariato con i paesi del Nord Africa. Quindi si pensa anche a un processo di cooperazione politica culturale unimino costrutto con i paesi del Nord Africa e eh il sostegno all'integrazione di paesi mediterranei e le strutture di politica e anche di sicurezza internazionali. Le politiche a questo punto ehm anche nei paesi arabi hanno sono sono un po' modificate. Se ci sono paesi i sotto aggiustamento strutturale come la Tunisia quindi costretti a ricostruire proprio eh secondo i dettami della Banca Mondiale le loro strutture anche eh amministrative l'Unione Europea mh però eh propone comunque eh un'alternativa eh interessante e anche meno eh invasiva per per certi aspetti. ehm in più eh cambia anche un po' lo scenario nel Nord Africa. C'è un islamismo più evidente, più più preoccupante per certi aspetti eh che che si intreccia anche con una serie di domande di eh di conseguenze sociali di queste ristrutturazioni economiche. Eh c'è l'undici settembre che segna diciamo uno spartiacque mh per l'impatto, per le implicazioni che poi ha anche nelle politiche interne per i paesi del Nord Africa. Ci vince la logica della sicurezza, della lotta al terrorismo e eh gli sforzi di democratizzazione nel quadro anche della cooperazione politica eccetera comincia a essere eh accompagnata dalla logica della guerra al terrore eh che è una strategia tipicamente americana e che finisce per rimodellare anche eh le relazioni eh tra Unione Europea e paesi mediterranei sulla diciamo logica della sicurezza. Quindi si comincia anche a eh appiattire purtroppo diciamo a dare una certa priorità eh a questo tipo di logiche. Eh l'Unione Europea ha una serie di strumenti di eh partenariato con Mediterraneo come avevo detto e ehm sono sostanzialmente due le più importanti l'Euro Mediterranean Partnership che è avviata nel 95 ha detto il processo di Barcellona adesso ha modificato il nome e quella che è stata nominata anche nell'introduzione l'European Neighborhood Policy, la politica europea di vicinato. Ehm ci ci si ragiona in termini di politica estera diciamo a Bruxelles si considerano eh politicizzazione delle relazioni eh correlate o politica estera dei singoli stati membri e si comincia a dire mh proviamo un progetto diciamo di più ampio respiro mettendo diciamo tutti seduti allo stesso tavolo e ragionando verso una direzione comune. Ehm. La prima l'Euro Mediterranean Partnership come ho detto è il processo di Barcellona e eh raccoglie i membri dell'Unione Europea più eh per quanto riguarda il Mediterraneo perché poi ci saranno anche Albania e altri stati membri. Per quanto riguarda il Mediterraneo abbiamo Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Giordano, Israele, Siria, Libano, Autorità Palestinese, Turchia, Cipro e Malta che poi in realtà diventano questi ultimi due membri dell'Unione Europea. Nel 2009 diventa Unione per il Mediterraneo, Union for Mediterranean. Eh ci sono altissime aspettative nei confronti dei partner mediterranei ehm si privilegia il processo decisionale congiunto. Ci si siede un tavolo comune, si decidono una serie di politiche insieme da percorrere insieme. Si non si può fare a meno di una certa eh come dire eh un un occhio ai problemi di sicurezza perché questo eh ovviamente diventa ormai parte anche dell'agenda europea. Si parla di valori condivisi in maniera più o meno così anche strumentale e eh c'è una grossa una grande aspettativa nei confronti di eh dei paesi europei nel senso che l'Unione Europea diceva avremo un'influenza positiva su conflitti contenziosi riusciremo in qualche modo a rappresentare un'alternativa e un un bacino diciamo di eh risorse anche culturali per definire un'alternativa ai conflitti. È un approccio multilaterale cioè mh una piattaforma vale per tutti i partner discusse insieme seduti allo stesso tavolo come dicevo eh per progetti eh multilaterali. Questo momento ha una durata abbastanza breve e soprattutto l'undici settembre marca un po' diciamo una svolta necessaria, una difficoltà. Si però si nei progetti si parla di eh misure di deradicalizzazione, si coopera nel settore della giustizia e degli affari interni dei paesi del Nord Africa ma la sicurezza insomma guadagna una posizione privilegiata che marca una netta differenza rispetto alla alla logica geostrategica multilaterale eh del progetto originale. Nel duemila e quattro si lancia la politica europea di vicinato. I membri mediter... la politica europea di vicinato come è stato annunciato anche nell'introduzione è un ampissimo eh diciamo strumento che raccoglie paesi dell'est e paesi del Nord Africa. Per quanto riguarda i paesi eh del Nord Africa, Algeria, Marocco, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Stato di Palestina, Tunisia, ne fanno parte, Siria anche però eh ma al momento è sospeso e eh la Libia non è membro, non è membro dall'inizio, dal 2011 comunque alcuni progetti che vengono introdotti, implementati in Libia con i fondi eh degli strumenti finanziari menzionanti prima sono finanziati attraverso diciamo la politica quadro, la politica di eh politica di del vicinato europeo. È un approccio regionale che marca diciamo anche strategie diverse tra Nord Africa e eh membri eh ai confini est. Sono diversi strumenti eh si basa su rispetto al multilateralismo del primo strumento, qui si parla di accordi bilaterali eh concordati con i paesi vicini, quindi non è non siamo più tutti su eh lo stesso tavolo ma su tavoli leggermente diversi. L'Unione Europea è un attore, lo Stato singolo eh del Nord Africa, in questo caso parliamo ovviamente di Nord Africa, è un altro. Eh la Commissione Europea definisce questi strumenti eh bilaterali, documenti politici come gli Association Accredence eh che riuniscono il lavoro esistente e eh quello futuro nell'intera grama di relazioni con i suoi vicini. Si si impegna diciamo retoricamente nel senso della della presentazione dell'argomentazione quella di impegnarsi col paese partner e prendere sul serio le riforme l'obiettivo di trasformazione che in qualche modo l'Unione Europea ha in mente e bisogna ricordare che comunque questo permette anche di diversificare questo approccio bilaterale la relazione tra Unione Europea e i paesi dell'est e i paesi e i partner meridionali, i paesi appunto del Nord Africa hanno ambizioni diverse dalle ambizioni dei paesi dell'est. Chi è all'est ha l'ambizione di aderire e lo stiamo vedendo in questi in queste in queste quattro settimane, quindi non solo l'Ucraina, anche la Moldavia e tutto tutto i paesi che stanno vicino sono eh proiettati in questa direzione. Il Nord Africa, i paesi del Nord Africa non hanno la stessa ambizione di essere membri dell'Unione Europea, ma sicuramente di ridefinire il potere negoziale e la loro posizione nei confronti di Bruxelles, anche se non tutti hanno lo stesso livello di interesse come vedremo e soprattutto per i paesi del Nord Africa sul tavolo, in particolare per la Tunisia, c'è la questione della liberalizzazione dei visti e su questo sicuramente ne parleremo dopo. Le rivolte del 2011 nel Nord Africa portano a una prima revisione della politica europea di vicinato, la seconda sarà nel 2015, in particolare le rivolte del 2011 hanno rivelato molte mancanze in senso geostrategico proprio anche di eh istituzioni finanziarie, di di altri partner, quindi non è solo una mancanza europea, però diciamo che è un marca definisce il livello di miopia in qualche modo di strumenti di cooperazione. Eh le conseguenze, diciamo che si può sintetizzare, la ricerca è molto ricca sulle cause del 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 rivolte del 2011, ma si può fare un'estrema sintesi dicendo che le conseguenze sociali e economiche di una serie di riforme anche economiche che ha eh strozzato diciamo eh eh la vita quotidiana delle popolazioni in molti paesi del Nord Africa a livelli diversi e gli stessi alleati dei regimi hanno anche loro avuto eh il loro diciamo eh eh bagaglio di di malcontento e che quindi nel lungo periodo eh questi modelli diciamo di sviluppo hanno mostrato una certa una certa un certo limite e si apre una fase politica diversa eh perché è evidente che eh si può parlare di association agreement, si può parlare di sederci a un tavolo comune, ma evidentemente poi problemi eh concreti e strutturali di questi paesi non si risolvono solamente così. E quindi eh sì 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 ci si rientroga sulla capacità veramente di intervenire, di influenzare eh l'economia e lo sviluppo di di questi paesi. Nel frattempo l'Unione per il Mediterraneo ha preso una strada leggermente diversa nel 2008 insomma a ridosso del 2011 è a guida francese perché è anche in questo caso come eh le istituzioni come la presidenza europea ha una guida a turno eh si punta ormai su programmi di sviluppo tecnici specifici di scambio eh di supporto tra piccole e medie imprese eh questioni tecniche molto molto più diciamo concrete per ridurre i livelli di politicizzazione che invece mh quando si fa lo sforzo di sedere far sedere tutti questi attori così diversi a un tavolo inevitabilmente emergono. Però in realtà poi ha alimentato una certa confusione e e e non è poi diventato uno strumento chiave. Rimane quindi privilegiata la politica di vicinato europeo che nel 2015 eh viene eh di nuovo eh rilanciata come revisione la prima nel 2011 ma quella sostanziale è poi nel 2015. E purtroppo diciamo che la la chiave trasformativa viene in qualche modo non abbandonata ma sicuramente eh ridotta con un'ambizione minore ehm si cercherà di andare ad hoc si riducono le aspettative eh nei confronti dei paesi del del dei propri nei confronti dei propri strumenti ma anche nella capacità di interagire con i eh contesti dei paesi Nord Africa fatta eccezione per la Tunisia allo scopo di eh intervenire radicalmente o comunque eh eh segnare un cambiamento effettivo nella nella nello sviluppo democratico del paese ed è in questo momento che il dossier delle migrazioni comincia a diventare una parola chiave un mantra di cui non ci si non ci si libera più perché nel 2015 si avvia la la revisione perché anche nel frattempo si la Commissione europea sta mettendo in atto tutta una serie di misure per contenere quella che eh in Europa è venuta eh è stata definita come la crisi migratoria che a mio parere ma non solo mio ma anche di tanti altri studiosi e e e esperti del settore è in realtà una crisi della gestione eh dei dei flussi delle frontiere e dei sistemi di asilo dei singoli stati membri ma questa è un'altra storia eh è inevitabilmente comunque in questo momento che eh la la politica europea di vicinato si deve confrontare anche con la sua capacità di di intervenire di dialogare cerco di andare un po' più veloce perché temo di essere un po' eh indietro coi tempi ehm ci sono alcuni paesi che marcano eh una differenza rispetto ad altri eh questo partenariato europeo è un approccio di eh Unione Europea come stato e come attore individuale quando in realtà è una multipolarità di voci perché gli stati membri al loro interno possono avere posizioni diverse nei confronti di uno stesso paese nordafricano possono avere posizioni diverse nei confronti della Libia nei confronti del Marocco nei confronti dell'Algeria e quindi cominciando a spostarci verso sud l'Algeria per esempio è uno di quei paesi che fa molta fatica a eh interagire a sedersi allo stesso tavolo con l'Unione Europea. L'Algeria eh mi baso anche su un articolo che ho scritto con la collega Federica Azzardo soprattutto sul dossier immigrazioni fa molta fatica a dire a preferire il negoziato con l'Unione Europea rispetto a un negoziato con un singolo Stato membro. L'Algeria preferisce l'accordo bilaterale con lo Stato membro. È una strategia anche di potere diciamo di 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 interpretazione del proprio valore perché non 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 attribuisce allo stesso all'Unione Europea lo stesso valore che attribuirebbe a uno Stato membro e in particolare è in grado di definire un'agenda in maniera più chiara. Un approccio al gelino eh è molto legato alla protezione del principio di sovranità nazionale della non ingerenza infatti era anche un paese ufficialmente non allineato e eh si legge l'agenda europea in chiave di sicurezza nazionale. L'Algeria ha avuto dieci anni di guerra civile e eh intende scusate ehm intende comunque gestire la politica interna a modo suo diciamo. La Libia poi marca un caso molto diverso con eh quarant'anni di regime di Gaddafi non è mai stata eh o comunque non allo stesso livello di altri eh ingaggiata nei nei partenariati europei stata anche sotto sanzioni e ha una storia magari privilegiata con l'Italia per molti aspetti con la Francia poi anche eh per altri. Termino con la presentazione di qualcosa forse di più eh concreto e eh così può stimolare un dibattito eh che sono i risultati di una ricerca eh di un progetto europeo un Horizon 2020 che è stato eh portato avanti in un numero di paesi del vicinato poi del vicinato allargato eccetera che si chiamava è un PAC Good Intentions Mixed Results a Conflict Sensitive Unpacking of the EU Comprehensive Approached Conflict and Crisis Mechanism Durato quattro anni 2016 incluso eh guidato dal Norwegian Institute for Foreign Affairs eh un istituto di ricerca di Oslo ehm che ha privilegiato l'approccio bottom up di ricerca eh di percezione locale dell'intervento europeo soprattutto in tema di crisis response negli scenari quindi di conflitto. Eh vi parlerò della Libia perché la Libia era il caso di cui mi sono occupata io come eh ricercatrice Siena Ressa a Tunisi per l'astituto di ricerca delle Macri Contemporane. Eh questo è un work package sul vicinato europeo giustamente guidato dalla scuola superiore Sant'Anna di Pisa eh diciamo la struttura dell'Horizon 2020 è un po' un partenariato anche un po' piramidale forse vi siete già eh in qualche modo scontrati con questo tipo di logica di ricerca e ehm due casi studio dove si può poteva analizzare un conflitto una risposta europea al conflitto e non la Libia e eh eh l'Ucraina. Quindi c'è anche una parte di ricerca sull'Ucraina tendo a sottolineare che è una ricerca che si è conclusa nel eh 2019. Questo ha portato a un articolino che trovate online un articolo di ricerca eh open access quindi eh eh non avete bisogno di essere iscritti all'università ehm che si è concentrato su border management e come strumento di risposta alla crisi in Libia e in Ucraina è un approccio comparativo. Io ero quella che si occupava del caso libico e la mia collega all'Università di Trento Alessandra Russo è lei l'esperta che si è occupata del eh della parte eh ucraina. Questa è una ricerca quantitativa. Questi sono slide che abbiamo restituito anche in fase di discussione con i partner. La ricerca è stata condotta eh la parte quantitativa eh per marcare, tracciare la percezione dell'approccio europeo in Libia a eh quasi duecentotrenta eh come dire respondents eh questionario è stato somministrato a duecentotrenta persone sostanzialmente a Tunisi ma anche eh con strategie di eh come dire eh coordinamento anche in Libia dove questo non poneva ovviamente eh problemi di sicurezza personale per i per gli intervistati. ovviamente la la parte eh dell'est è quella che forse è stata un po' meno coperta eh dell'est libico la parte invece eh occidentale in Tripoli di tutta l'area vicino alla Tunisia è quella più più coperta. Ehm questi schemi diciamo rendono l'idea il primo eh di quali attori gli intervistati erano a conoscenza quindi agenzie UN e l'Unione Europea eh agenzie dell'ONU e l'Unione Europea erano comunque note. La missione di supporto eh dell'ONU che si chiama ANSMI era nota ma fino a un certo punto. Poi singoli stati Egitto eh Qatar Italia e Emirati Arabi erano noti e l'Italia in qualche modo marca una certa eh eh come dire maggioranza di percezione. E i tipi di settori che il crisi che la risposta europea alla crisi eh copriva diciamo che la gli 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 aspetti principali di crisis response erano quello umanitario diplomatico e di capacity building cioè corsi di formazione. Meno sviluppo meno rule of law e e security sector reform che invece forse in un caso libico ma è un'altra discussione doveva essere eh l'approccio chiave. Eh da questa prima parte quantitativa avevamo sintetizzato che la percezione delle politiche dell'Unione Europea eh nei nostri intervistati libici è noto eh cioè l'intervento europeo è noto eh apprezzato ma con un ampio margine di dubbio e soprattutto eh gli gli intervistati hanno sottolineato il fatto che l'approccio era molto poco legato a diciamo una sensibilità locale del conflitto. Eh ci sarà poi un approccio qualitativo mh prima di parlare di quello ricordo che un grosso intervento economico eh lanciato anche questo nel duemila e quindici sempre in questo periodo di revisione degli strumenti di intervento è l'European Trust eh eh Fund for Africa. È uno strumento che ha riunito precedenti strumenti finanziari già esistenti ne ha aggiunto di nuovi in un percorso diciamo di crisi quindi è uno strumento a detta della Commissione Europea più snello a detta di eh parlamentari europei alcuni parlamentari europei su cui c'è meno controllo obiettivamente eh ed è uno strumento di emergenza che coordina e come dire immette tutta una serie di di fondi su progetti stabiliti eh ovviamente su criteri eh di emergenza ma insomma un'emergenza un po' più europea che locale. Infatti nel caso della Libia facendo un'estrema sintesi abbiamo un ambito di protection che è un ambito che copre eh protezione di cittadini condizioni di vita di cittadini residenti in Libia una grossa fetta dal 2015 a oggi 2016 a oggi è quello che riguarda l'integrated border management cioè tutta la gestione di frontiere e quindi eh capacity building sostanzialmente ma anche altri interventi e eh c'è anche una una fetta riguardante le municipalità eh cioè un intervento di supporto alla costruzione di una sorta di decentramento eh in Libia che adesso magari discutiamo molto rapidamente. La parte di ricerca qualitativa di questo progetto europeo cioè le interviste più lunghe, approfondite, non eh quantitative cioè non somministrate a crocette hanno fatto emergere un quadro un pochino più complesso e anche un pochino più critico a mio modo di vedere. Eh me ne sono occupata per diversi mesi e viene conosciuto, viene sottolineato il ruolo di la missione Eubam che è quello di supporto alle alle frontiere europee ma in realtà poi eh da parte dei miei intervistati sono emerse molte criticità rispetto ad alcuni punti. I progetti europei non sono molto ancorati alla realtà locale libica. Eh il dossier migratorio eh marca diciamo un certo malcontento, crea un certo malcontento negli intervistati perché appiattisce su una serie di logiche molto poco eh owned e molto poco definite eh da chi invece poi implementa questi progetti cioè organizzazioni libiche di società civile di 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 attori internazionali in collegamento con organizzazioni libiche che sono un po' spuntate come 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 funghi dopo il 2011 con una certa flessibilità, una certa libertà di associazione. Eh il dossier migratorio è anche rigettato diciamo dalle autorità libiche quindi non solo da chi fa eh attività o chi è membro di società civile ma poi anche le autorità libiche almeno per quanto riguarda eh la zona di Tripoli ci è stato detto non è un nostro problema e e quindi è chiaro che questo dossier migratorio crea rischia di creare ulteriori divisioni proprio insieme alla società libica perché marca più differenze, più malcontento che eh un progetto comune. È più facile cooperare con le municipalità, ci sono diversi progetti, il problema è che la municipalità come istituzione, come autorità amministrativa non è nuova in Libia, non è una cosa che non è mai esistita ma ha un peso relativamente ha un peso relativo soprattutto nel quadro conflittuale libico che eh a a a ondate eh eh riesplode e quindi hm diciamo che c'è uno scontro tra cos'è la municipalità per un progetto europeo che cos'è la la municipalità per eh una realtà eh libica che si riconfigura a seconda del conflitto e che subisce una forte eh influenza esterna evidentemente da parte di altri di altri attori quindi è un po' problematico definire di successo la parte il partenariato con le municipalità quando poi la municipalità sembra più un ente creato per poter accedere a una serie di accordi e di e di e di potere che hanno poi implicazione sulla ridefinizione delle degli equilibri di potere all'interno del paese. C'è anche, mi è stato anche detto. Scusi, mi permetto di intervenire per chiederle di arrivare magari a una conclusione. Siamo l'ultima slide. Sì sì sì. Grazie. No grazie, chiedo scusa. C'è anche una, le ultime due cose, c'è una certa insoddisfazione sulla quantità di denaro che è stata eh come dire emessa da parte dell'Unione Europea nei confronti dei progetti libici che non sempre sono stati eh definiti eh poi di facile controllo perché una volta arrivati in Libia c'è anche le organizzazioni internazionali dicono c'è una black box e purtroppo per tutti purtroppo è difficile controllare e eh vorrei anche precisare questo è l'ultimo slide di eh che cosa intendiamo per percezione cioè nel caso della Libia se la percezione delle politiche europee è un riposizionamento in realtà delle autorità libiche eh perché la la Libia non è un paese eh abituato o comunque con una lunga storia di negoziato come la Tunisia, come il Maroc, eccetera, lì via era un paese donatore, era un donor country nei confronti dei suoi partner quindi questo marca un primo diciamo difficoltà anche da un punto di vista di Bruxelles ma bisogna anche tenere in considerazione che questo eh crea forse più divisioni eh che altro e soprattutto eh anche in questo caso in maniera simile ma non per le stesse ragioni come avviene in Algeria c'è una preferenza verso una eh eh rapporto con i singoli stati membri, l'Italia per con gli aspetti, la Francia, la Germania piuttosto che eh i processi negoziali con l'Unione europea e ehm c'è ancora un conflitto in atto in cui effettivamente se un dossier non non entra eh a definirsi rispetto a eh bisogni locali rischia di stritolare diciamo e di essere stritolato tra logiche di legittimità della parte di autorità nazionali libiche che si devono riposizionare anche al loro interno e effettivamente i reali bisogni della popolazione in cui effettivamente vengono poi nascosti o comunque marginalizzati richieste di aiuto di tipo umanitario, di sicurezza personale, di libertà di espressione, di associazione. E questo è realmente la mia ultima slide, vi ringrazio, scusate per essere stata un po' troppo lunga, interrompo la condivisione. Grazie mille, no mi scusi anche di averle ricordato di. Ha fatto benissimo. No purtroppo abbiamo dei tempi da insomma da cercare di rispettare. Comunque grazie molte della sua presentazione che ha fatto un quadro molto esauriente e completo della cooperazione dell'Unione Europea con Maghreb, con la sponda sud del Mediterraneo, facendo questa molto interessante analisi storica e poi fornendo qualche dato di dettaglio in particolare sulla Tunisia, sulla Libia, andando anche a vedere alcune delle problematiche che purtroppo ci sono nella spesa dei fondi europei, nella cooperazione con questi paesi e poi a molte delle tematiche che lei ha giustamente ricordato sono purtroppo comuni anche alle relazioni con altre aree geografiche. Comunque grazie molte di questo inquadramento molto utile e molto dettagliato e a questo punto io passo la parola alla dottoressa Arianna Poletti che è giornalista freelance, vive a Tunisi, quindi non racconta ma racconta diciamo di prima mano, non racconta da lontano le vicende del Nord Africa che ci andrà a raccontare, ha vissuto precedentemente in Francia, occupandosi sempre però di tematiche legate al Nord Africa e adesso appunto è come dicevo prima una giornalista freelance che collabora con varie testate italiane ed internazionali, quindi a lei chiediamo di darci qualche dettaglio di più, mi pare che comunque partendo dalla sua esperienza in Tunisia partirà proprio dal focus su questo paese per allargare poi qualche riflessione al Maghreb. Grazie, grazie anche a lei della sua disponibilità, le lascio subito la parola. Buongiorno eccomi, buongiorno a tutti e tutte, spero che mi sentiate. Inizio con ringraziare innanzitutto per avermi invitata e mi fa particolarmente piacere parlarne, parlarne da Tunisi e parlarne dopo anche questo intervento molto interessante della collega che ha fatto proprio quello che io non farò nel mio intervento, cioè dare un quadro storico in modo da ecco ricontestualizzare anche determinate problematiche, mentre avendo io anche un ruolo diverso essendo giornalista e non ricercatrice, cercherò di collegarmi a lei riflettendo su determinate questioni che hanno a che vedere molto anche con l'attualità e proprio con l'immagine anche che noi abbiamo del Maghreb e che il Maghreb ha di noi, perché poi l'obiettivo è proprio quello appunto di provare a ribaltare lo sguardo e il punto di vista. E sono molto contenta di poterlo fare per provare effettivamente appunto a spostare il focus anche dalla nostra idea, dai nostri preconcetti, dalle nostre paure dell'altro al punto di vista appunto di chi ci guarda e di chi ci considera l'altro, il diverso, lo straniero anche. E questo è un discorso che vale sempre e ho visto che ci sono stati, ci saranno tanti interventi su aree del mondo diverse e il loro rapporto con l'Unione Europea, ma ritengo che questo discorso sia particolarmente valido e necessario in Italia e non solo, quando si parla di territori come proprio il Nord Africa e il Maghreb. Sono zone su cui è innegabile, spesso si porta uno sguardo che non aiuta a rimetterlo in contesto come cerchiamo di fare noi che lavoriamo su questi temi, ma spesso portiamo uno sguardo giudicante su questi territori e che vale la pena provare a ribaltarlo e a chiederci appunto non solo come consideriamo noi questa zona, ma anche come siamo considerati noi e come anche il nostro modo di vita, il nostro modello economico, i nostri affari influenzano poi di riflesso gli equilibri socioeconomici dei paesi a sud nel Mediterraneo, che come ha spiegato Chiara sono assolutamente legati all'Unione Europea, a noi. Allora, il fatto di provare a ribaltare il punto di vista, permettetemi questa premessa che sarà breve, secondo me è particolarmente interessante anche in questo momento in cui in rapporto all'attualità, alla questione appunto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, si sente molto dire che non ci sono abbastanza similitudini culturali che facciano sì che si possa immaginare anche un sistema di accoglienza per tutti, anche per chi arriva dal Mediterraneo, come se chi proviene insomma dal Mediterraneo fosse automaticamente culturalmente diverso o più diverso di altri e quindi meno accettabile. Allora, io vivo in Tunisia, come vi dicevo, e vivo in un quartiere che si trova accanto al porto di Tunisi, che porta il nome di Piccola Sicilia. Questo è il luogo in cui si stabilivano i migranti siciliani che cercavano fortuna in Tunisia all'inizio del Novecento e si parla di cifre che sono le stesse che oggi a noi fanno paura, cifre come più di centomila siciliani che fuggivano dalla Sicilia verso la Tunisia a inizio secolo e è interessante perché oggi ancora tanti tunesini portano, specialmente in questo quartiere, portano ancora cognomi che derivano dall'italiano, cognomi italiani e parole anche nel dialetto tunesino che assimilano moltissimo a parole, appunto si sente che sono parole che derivano dall'italiano. Quindi questo è sempre per provare a ribaltare lo sguardo e a ricontestualizzare anche processi come quello migratorio di cui si dibatte tanto a livello di attualità oggi e che va io penso appunto guardato, studiato, analizzato sul lungo termine come cerchiamo di fare oggi e come abbiamo fatto anche grazie appunto alla presentazione della collega. Ma oggi, e ce lo dicevamo anche con Chiara, non voglio parlare solo di migrazione, perché è a questo che questa zona nel mondo viene costantemente ridotta, ma come spiegava appunto la collega, il rapporto tra l'Unione Europea e il Maghreb anche oggi, anche se parliamo non solo di prospettiva storica ma proprio di attualità, va molto al di là delle questioni migratorie, dei salvataggi in mare, delle partenze, dei rimpatri che, di cui insomma leggiamo, su cui ci informiamo. La migrazione è certamente un aspetto importante anche proprio perché influenza determina politiche pubbliche da entrambi i lati, ma è essenzialmente una conseguenza di tutto quello che c'è prima, di tutto quello che c'è dietro, di un sistema politico, economico, sociale di un certo tipo ed è un approccio, parlare sempre solo di migrazione quando parliamo di Maghreb e Nord Africa è un approccio secondo me limitato e appunto anche limitante perché non ci aiuta mai a capire il perché, il perché oggi noi riduciamo costantemente questa zona a un corridoio migratorio, mentre appunto il canale di Sicilia che lega i due lati del Mediterraneo è questo trade union che va ben al di là appunto solo dei processi migratori. Prima di andare a citarvi i tre dati che sono un po' i tre dati su cui ho impostato questo discorso, volevo specificare il fatto che appunto io lavoro qui in Tunisia come freelance e proprio in funzione di questo discorso che vi sto facendo sulla migrazione mi impongo più o meno quotidianamente di lavorare, dare la parola, andare a cercare altre storie, altre questioni che esistono qui come quella ambientale, economico, sociale, di genere e faccio parte di un collettivo di giornalisti freelance che si occupano di esteri e lavorano dall'estero che si chiama FADA e che mi invito a seguire se se vi interessano insomma questi questi temi con cui proviamo a portare avanti una visione di giornalismo che cerca di cambiare un po' la narrazione che viene fatta oggi degli esteri in Italia raccontando appunto l'altro attraverso le storie delle persone, i loro diritti che vanno poi a spiegare le dinamiche sociali di un paese in profondità e non solo appunto questa questa corsa alla news costante ma provare a fare una riflessione un attimo più più profonda. Detto questo allora io mi sono assegnata qui tre dati su cui vorrei riflettere anche in maniera critica magari poi appunto facendo venire in mente qualche domanda mi farebbe piacere avere anche una sorta di scambio. Il primo dato è 75 chilometri. 75 chilometri è la distanza che separa all'incirco ovviamente Roma e Latina che più o meno sappiamo situare tutti ma è la stessa che separa l'isola siciliana di Pandelleria alla cittadina tunisina di Chilibia nella regione del Cabbon quindi nel nord est del paese che è una città da cui la sera spesso se fa bello si vedono le luci delle case di Pandelleria. Questo ancora una volta lo dico per ribaltare quella percezione di lontananza che noi abbiamo dall'altro lato ma che invece di qua è molto diversa e ridotta in qualche modo no perché qui capita che il cellulare prenda in Italia prenderai uno prende la radio italiana spesso nei taxi parte in automatico qualche canzone di Laura Pausini oppure addirittura Radio Maria paradossalmente e tutti hanno insomma hanno un fondo di conoscenza di cosa c'è dall'altro lato che è qualcosa che invece secondo me da parte nostra manca cioè non c'è questa proiezione verso sud come invece qui c'è verso nord. Il secondo dato invece di cui volevo discutere per addentrarci un po' di più nel contesto tunisino che è quello che conosco meglio e che analizzerò oggi è una percentuale cioè 42%. 42% è il tasso di disoccupazione giovanile in Tunisia. La Tunisia è un paese quindi in cui un giovane su due essenzialmente non trova lavoro e però è anche un paese in cui ci sono la maggior parte degli abitanti o almeno l'età media della popolazione è più bassa rispetto alla nostra ci sono moltissimi giovani e che non riescono a trovare un lavoro che finiscono nel mondo dell'informale che in Tunisia rappresenta la metà il 50% dell'economia degli scambi economici appunto sono sono informali quindi una sorta di specchio dell'economia formale o che si trovano a fare lavori di tipo sottoqualificato che magari hanno un certo livello di studio ma non trovano un lavoro che corrisponde al loro titolo di studio e per esempio moltissimi giovani finiscono a popolare aziende che molto spesso sono parte di una catena di valore di un'azienda che magari anche europea e che si scompone in varie parti in varie parti del mondo e di cui una parte è in Tunisia. Adesso vi spiego cosa intendo con questo. Intendo introdurre in questo dibattito il tema del lavoro e della delocalizzazione perché ci sono moltissime aziende e imprese che delocalizzano moltissime delle quali europee che delocalizzano in Tunisia perché ovviamente qui il salario dei lavoratori è minore. Ci sono tante storie eh di di coetanei eh laureati in lingue che magari rispondono alle nostre chiamate nei call center oppure eh cuciono i jeans di zara che troviamo sui nostri scaffali no? Ehm questo per dire che eh in Tunisia la precarietà è strutturale ehm nel senso ehm c'è sempre questa tendenza a pensare che eh un paese in quanto nord africano debba essere povero per forza eh ma eh non è così ehm la precarietà di una fascia importante della popolazione si inserisce in in un sistema complesso in una catena del lavoro di valore eh in cui ehm la Tunisia si situa in basso e ehm questo concretamente cosa significa? Significa che ehm la Tunisia è un paese un'economia l'economia tunisina eh che è strettamente legata alla nostra eh addirittura in certi ambiti più che in quel più legata alla nostra che ad altri paesi africani è fatta eccezione appunto vabbè per la Libia e e per l'Algeria con cui ci sono scambi insomma eh costanti ehm e questo eh per reinserirlo in un contesto del quale ha già parlato la collega eh succede a partire dagli anni settanta cioè da quando in Tunisia inizia quest'ondata di riforme eh che eh sotto la spinta anche delle istituzioni finanziarie internazionali eh come appunto il Fondo Monetario Internazionale ehm danno fondi eh al paese ehm e eh parallelamente implementano programmi eh come per esempio il PAS il piano di aggiustamento strutturale che è stato approvato nell'ottantasei poco prima del dell'arrivo al potere di di Ben Ali ehm che hanno puntato a eh liberalizzare l'economia tunisina che eh questo cosa vuol dire che l'economia tunisina si integra verrà integrata a quella europea. Questo è un processo che eh è ancora in corso eh decennale e che eh dovrebbe terminare o concludersi insomma almeno dal punto di vista formale con la firma della LECA che è questo eh accordo di libero scambio eh che ehm crea eh molto dibattito eh qui in Tunisia ehm soprattutto perché viene criticato da parte della società civile e e adesso vi vi spiegherò eh il perché e se ne potrà anche eh discutere. Eh allora a partire dagli anni settanta quindi eh succede questo. Succede che l'economia tunisina ehm viene riorientata e si inizia a produrre eh essenzialmente per esportare, per l'export, cioè per gli altri. Eh chi sono gli altri in buona parte dei casi? Beh siamo noi perché la Tunisia esporta al settantacinque per cento verso l'Unione Europea. ehm ma quando dico noi intendo noi anche in quanto Italia perché eh l'Italia infatti è il secondo partner commerciale della Tunisia eh dopo la Francia ehm anche se eh vabbè negli ultimi anni Francia e Italia si contendono proprio la prima posizione quindi sono davvero i due paesi europei che hanno i maggiori scambi ehm commerciali appunto con con questo paese. E ehm mentre ci sono diversi paesi dell'area eh Nord Africa eh Maghreb che esportano essenzialmente gas e petrolio verso l'Unione Europea eh e che quindi sono eh appunto come dicevamo anche prima fondamentali da un punto di vista strategico anche il rapporto proprio alla questione dell'energia di cui si discute molto adesso come eh l'Algeria, la Libia, più prima ora un po' meno eh o l'Egitto. Ehm ecco che cosa esporta invece la Tunisia? La Tunisia ehm oltre una piccola parte di 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 gas e petrolio esporta ehm essenzialmente articoli di abbigliamento cuciti qui eh parti delle automobili e soprattutto cavi. Allora sono prodotti particolari come vedete nel senso che sono tutti prodotti che eh non richiedono ehm competenze ehm specifiche eh e che che vanno a comporre qualcos'altro e soprattutto che eh richiedono una mano d'opera che dal punto di vista puramente di mercato eh meno costa meglio è. Eh prendiamo l'esempio del settore tessile che è un settore su cui io ho eh lavorato eh seguendo appunto eh il lavoro di eh varie varie aziende andando a comparare anche proprio come eh l'approccio al lavoro e come le operaie che sono quasi sempre tutte essenzialmente donne ehm lavorano all'interno di questo contesto. Eh beh ehm lo stipendio medio in Tunisia eh di di un operaia è di circa duecento euro al mese ehm senza alcun tipo di copertura sociale poi ovviamente dipende dalle situazioni e non voglio assolutamente eh generalizzare eh però eh le donne tunisine quindi in particolar modo quelle di alcune regioni del Sahel della costa cuciono i vestiti del fast fashion quindi cuciono per esempio eh i vestiti vabbè delle varie marche che noi poi eh compriamo e che che insomma rinnovano eh la loro collezione costantemente questo è si intende per fast fashion e ehm se il jeans è stato prodotto immaginiamo in Cina eh in Tunisia eh si passa alla fase in cui si cuce il bottone e si impacchetta e poi viene spedito verso i nostri porti. Ehm allora perché questo è un problema o almeno è eh da da discutere da interrogare ehm c'è chi risponde di solito quando si cerca di fare questo discorso a dicendomi ehm ma noi ehm noi li aiutiamo no? C'è il famoso discorso di noi li andiamo ad aiutare a casa loro ehm ebbene sì però è più complesso di così perché oggi i salari eh delle classi eh sociali più povere più precarie in Tunisia che eh corrispondono proprio a quelle ehm che costituiscono la manodopera a basso costo eh della delocalizzazione o della produzione locale eh orientata per le al verso l'export ehm sono salari che non bastano più per avere un livello di vita adeguato nel paese. Ehm e niente in questo senso eh l'Italia gioca comunque un ruolo fondamentale eh in quanto porta dell'Unione Europea ehm e questo discorso eh vale eh vale anche in altri appunto in altri ambiti non solo ovviamente in quello del testo che ho fatto questo esempio ma ehm ma insomma era eh un tentativo per spiegare che il nostro sistema economico è eh in qualche modo integrato a quello dei sistemi eh a quello dei paesi del Maghreb e ehm con delle conseguenze proprio dal punto di vista eh sociale eh che eh qui eh sono molto sentite eh se parliamo di sguardo che eh gli altri portano e posano su di noi. Ehm qui arrivo al terzo dato. Il terzo dato è eh un prezzo eh 15 dinari dinari tunisini che corrispondono adesso a eh 5 euro circa. Eh 5 euro è il costo oggi eh di un litro di olio di semi in Tunisia. Eh un litro di olio di semi in Tunisia due mesi due tre mesi fa costava all'incirca due dinari. Oggi ne costa 15. Perché aprendo l'esempio dell'olio di semi? Eh si sente spesso eh in Italia la polemica su sull'olio d'oliva tunisino no? Perché in Italia si vende l'olio d'oliva tunisino e non quello italiano. Eh se l'olio d'oliva tunisino arriva sulle nostre tavole è proprio in nome di eh questo processo di liberalizzazione del mercato tunisino ehm che riguarda anche questo tipo di prodotti. Qui l'olio l'olio degli olivi tunisini eh che chiunque abbia visitato questo paese ehm insomma ha visto perché questi olivi si vedono ovunque lungo le strade della Tunisia ehm non è prodotto per il mercato interno. Non è un prodotto come tanti altri dei prodotti che vengono eh appunto prodotti in Tunisia eh destinato al consumo interno eh nel senso proprio che eh pochissimi tunisini usano oggi l'olio d'oliva non perché eh non si usi l'olio d'oliva ma perché questo olio d'oliva viene impacchettato prodotto per l'estero e per l'esportazione. Nel frattempo però eh appunto l'olio è comunque un un alimento usato eh in Tunisia alla base della catena alimentare tunisina e quindi come si fa? Si importa dell'olio che costa meno di qualità minore quindi dell'olio di semi che tutti i tunisini eh oggi usano al posto dell'olio d'oliva che viene prodotto sul loro territorio e che eh appunto eh in quanto olio di minore qualità costa meno ehm perché vi porto questo esempio perché ehm appunto ci sono eh una parte di questi processi storici ed economici sta portando a delle situazioni paradossali di questo tipo ehm che eh io trovo siano eh interessanti anche rispetto proprio nel contesto attuale ehm perché in questo momento si discute molto no di dipendenza dall'estero e eh di riflesso anche di eh sovranità eh alimentare sovranità energetica ehm ed è un discorso che vale anche per esempio eh quando si parla della questione delle delle forniture del grano no? Eh ci sono paesi come appunto la Tunisia, l'Algeria, la Libia, l'Egitto ma anche tanti altri paesi nel Medio Oriente che dipendono dalle forniture di grano ucraino e russo eppure sono paesi che noi su libri di storia citavamo come il granaio di Roma eh dove storicamente si coltivava il grano eh ma oggi non si coltiva più eh in Tunisia per esempio si coltivano essenzialmente aranci maltesi per l'export, olive per l'olio per l'export, dati per l'export, pomodori per l'export e ehm quindi ehm cosa succede? Succede che mancano eh manca una produzione, un mercato interno dei beni di prima necessità che devono essere importati ehm e eh che vengono esportati essenzialmente verso l'Unione Europea e che devono poi essere importati e quindi costano cari. Ehm quello che sta succedendo è che adesso eh i prezzi si stanno alzando moltissimo e eh sono eh al pari molto spesso dei prezzi europei eh cosa che però non avviene con i salari eh perché questi salari ehm proprio anche in funzione del fatto che si situano in fondo a questa catena dei valori eh sono un quinto, un sesto, un settimo eh dei nostri salari medi quando i salari ci sono se ci sono qui intendo ovviamente. Ehm quindi ehm questo per dirvi che ehm tutto questo è poi da inserire in un contesto di eh di forte crisi economica che si è appunto aggravata con la pandemia che ha portato anche a questo momento eh dei prezzi ha messo in ginocchio la società tunisina ehm tanto che appunto se vogliamo tornare all'esempio del grano oggi le nevi le navi eh merci scusate che trasportano il grano restano bloccate al porto perché in Tunisia non ci sono abbastanza fondi per eh pagare le forniture e eh far sì che si scarichi il grano necessario per mangiare il pane il primo alimento eh l'alimento che costa meno di cui eh proprio quelle fasce più eh precarie della popolazione eh si si nutrono ehm e eh per ritornare appunto sulla questione dei prezzi in maniera anche un po' più tecnica ehm vi eh porto un ultimo dato che è il sette per cento che è eh l'inflazione oggi in Tunisia ehm all'incirca eh questo in parole povere vuol dire appunto che i prezzi eh davvero hanno subito un aumento veramente notevole e ehm e che ehm e che eh appunto vivere quella situazione di precarietà eh che eh noi ehm citiamo spesso anche in funzione proprio di una riflessione di un dibattito sulla questione migratoria ehm va inserita in questo contesto anche perché oggi vivere con quei salari che si inseriscono in un mercato di lavoro più ampio con un'inflazione che aumenta con una crisi economica che aumenta fa sì che non si possa eh in Tunisia ad accedere a tutta una serie di eh non solo al non si possano comprare i beni di prima necessità eh al supermercato perché diventati troppo cari ma non si possa più per esempio eh curarsi eh una visita eh purtroppo cioè nel senso non non c'è alternativa molto spesso solo privata ma una visita immaginiamo a medico più analisi del sangue in Tunisia viene a costare una cifra come quattro cinquecento dinari lo stipendio medio è di settecento quindi è ovvio che eh sono eh cifre eh che magari eh non si sentono raccontare quando si analizza questo paese da un punto di vista puramente o questi paesi più in generale da un punto di vista puramente geopolitico di eh alleanze strategie e accordi ma che eh sono centrali eh anche proprio per capire eh intanto i motivi le condizioni e poi eh di riflesso anche lo sguardo eh che eh chi sta qui porta ripeto eh su di noi ehm di di Tunisia si parla spesso non solo appunto in legame alla questione migratoria ma anche eh citando la rivoluzione del 2011 no? Che ehm oltre a chiedere un cambiamento politico eh che che appunto eh vabbè sono contenta appunto che Chiara abbia fatto abbia approcciato anche storicamente eh tante tante questioni ehm per cui posso posso evitare di 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 dilungarmi su questo ma eh nel nel 2011 oltre a chiedere un cambiamento politico qui la fine della dittatura lì bene lì ehm si è chiesto essenzialmente eh un cambiamento economico le rivendicazioni delle regioni eh dove è iniziato questo movimento di piazza eh quindi quelle del sud, quelle nell'entroterra, quelle più marginalizzate erano rivendicazioni a spondo economico eh che portavano tutti questo termine all'interno che è giustizia sociale e e e quando si parla di giustizia sociale si fa proprio riferimento a tutto questo eh discorso eh che insomma che 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 sto facendo e si contestano delle elite eh locali eh che prima di essere delle elite politiche eh sono anche delle elite economiche e che sono parte integrante proprio di questo processo ehm ed è il motivo per cui oggi quando per strada si parla con un cittadino eh del 2011 della rivoluzione tunisina, la rivoluzione dei gelsumini eccetera la risposta tendenzialmente ehm è molto pessimista e si racconta che è cambiato ben poco anziché le condizioni materiali eh sono peggiorate eh non perché eh la la dittatura di Ben Ali sapesse gestire meglio eh la cobertà, la precarietà, le questioni sociali ma perché ehm appunto l'impostazione economica che ehm che che fa sì che si mantenga una 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 buona fascia della popolazione in una situazione di forte precarietà ehm è rimasta eh la stessa essenzialmente ehm quindi ehm niente questo per poi eh concludere dicendo che il dibattito è ancora molto attuale eh e proprio anche rispetto a quello eh di cui sentiamo parlare in questi giorni ehm oggi la società civile tunisina eh discute di sovranità alimentare per esempio eh perché non produciamo abbastanza beni di prima necessità per tutti in caso di crisi perché non siamo autonomi dal punto di vista eh energetico perché anche la la Tunisia come come altri paesi ehm del Mediterraneo dipende per esempio dal gas algerino no? Algerina dove Algeria dove scusate le le dinamiche eh sociopolitiche sono poi diverse ma anche molto simili nel senso che esiste una classe politica che si è arricchita sulle spalle della popolazione proprio grazie alla rendita di petrolio e di gas e che ehm è servita a diciamo a a a più all'arricchimento eh di di quell'elite che è stata contestata durante i movimenti di piazza che alla reale crescita eh di di uno stato inteso come appunto eh di uno stato e dei suoi servizi rivolti alla società ehm e infatti eh citavo il 2011 ma potrei citare eh il 2019 in Algeria che è stato un un movimento di piazza che richiamava eh gli slogan del 2011 eh e che eh aveva eh sempre questa questa questo doppio obiettivo cioè di ehm contestare un determinato contesto politico ma anche un determinato contesto economico ehm allora eh io concludo qui non voglio dilungarmi troppo ma ehm io spero attraverso l'esempio della Tunisia ehm non di aver spiegato tutto nei dettagli non era il mio obiettivo anche perché io non sono una ricercatrice non sono un economista ma eh di aver incuriosito anche rispetto a dinamiche eh di cui io trovo non si discute così frequentemente e che eh sono anche alla base di tutti quegli eventi di attualità eh che che di cui parlavo no? Che noi riduciamo eh a molto spesso a cioè la crisi economica quindi partono tutti eh sì eh è vero ma perché eh qui cioè dall'altro lato del Mediterraneo bisogna eh capire che c'è molto altro ci sono dei cittadini eh formati e attivi eh non si tratta solo di un bacino eh passivo di gente pronta a partire ma ci sono dei movimenti, dei centri di ricerca, degli attivisti e degli universitari che eh riflettono molto spesso anche proprio sul rapporto tra Unione Europea e Maghreb e eh come su tanti altri temi eh con una consapevolezza ehm e una criticità anche che a noi eh a volte viene a mancare ehm e eh come mi ha detto un attivista sul misino qui eh durante un'intervista mi ha detto eh a voi viene a mancare perché eh non si subì in Europa non si subisce in prima persona ehm le conseguenze di di tutti questi meccanismi cosa che invece noi qui eh vediamo e quindi riusciamo a a nominare, categorizzare, ad analizzare ehm e eh io credo che con con la questione appunto vabbè del caro energia, la speculazione su beni di prima necessità anche in Italia in questo momento eccetera eh ci rendiamo conto anche che dipendiamo eh dagli altri che questi legami in quanto l'Unione Europea in quanto Italia vanno eh assolutamente approfonditi e non e non banalizzati e e anche a livello giornalistico eh io credo non non possiamo più permetterci ecco di raccontare gli esteri solo quando esplode una bomba per poi dimenticarci del paese in questione eh per il resto del tempo non riuscire poi a fare quello che stiamo cercando di fare qui eh io chiara cioè contestualizzarlo ehm e niente questo perché eh appunto eh le storie di questi paesi l'obiettivo di tutto questo discorso è dire che che ci riguardano eh grazie concluderei così grazie mille alla dottoressa Poletti veramente una una bella relazione molto appassionante devo dire ci ha raccontato proprio dall'interno molte questioni eh direi molto 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 importanti e probabilmente non abbastanza note diciamo ehm devo dire che anche nella mia esperienza di progetti di ricerca eh sia nel Nord Africa sia nei nei Balcani c'è sempre una eh diciamo la quando si va in quei paesi si vede con mano e si parla con le persone ci si accorge di quanto eh sia superficiale l'approccio che noi normalmente in Italia abbiamo verso i nostri vicini perché poi stiamo parlando dei nostri vicini sia nel caso del Nord Africa che dei Balcani tante aree che hanno relazioni in realtà eh con l'Italia per cui come ha detto in modo molto efficace direi la la dottoressa Poletti questa distanza dall'Italia viene amplificata cioè loro ci vedono come molto vicini perché siamo realmente molto vicini sia geograficamente che a livello culturale e noi le vediamo come molto lontani molto più di quanto di quanto non lo siano e questo vale un po' per tutti i paesi nel caso della Tunisia probabilmente è un osservatorio privilegiato di relazioni anche economiche col nostro paese e io direi la parola che mi viene in mente è responsabilità una parola che lei forse non ha voluto usare ma che mi sembra stia un po' dietro a a leggia intorno a quello che lei dice cioè c'è una responsabilità eh dell'Unione Europea e del nostro paese come primo secondo partner commerciale ad esempio nel caso della Tunisia eh rispetto alla questione della sovranità alimentare rispetto alla questione dei dei salari eccetera quindi chiaramente come dire eh il sistema paese eh Italia Italia o Unione Europea eh si avvantaggia in qualche modo eh delle relazioni con con la Tunisia in questo caso ma questo penso che si possa chiaramente trasporre per molti aspetti anche alle relazioni con altri paesi del del Maghreb quindi grazie di averci fatto ehm veramente avere una visione più bilanciata questo vale per entrambe le vostre relazioni e soprattutto chiaramente il ruolo anche direi noi siamo abituati appunto tra ricercatori tra studiosi ad avere un certo tipo di approccio ma noto con piacere l'utilità anche di un approccio diverso che è quello di una giornalista che chiaramente riesce a raccontare storie no? E a raccontare storie in un modo che forse arriva eh anche in modo molto più eh facile a a alla mente di tutti e quindi la ringrazio davvero di averci dato questo spaccato questa chiave di lettura anche delle delle dinamiche eh che che sono in atto che sono in atto anche legate all'attualità eh quindi davvero grazie ad entrambe io vedo ora apro un attimo la ehm abbiamo un file con le domande che stanno che stanno arrivando e ehm innanzitutto una domanda tecnica chiede un nostro partecipante come si chiama l'associazione dei giornalisti a cui faceva riferimento se magari la può scrivere in chat o ce la puoi dire si chiama Fada Fada Collective trovate il nostro sito e io mi occupo di Tunisia ma siamo in sette eh ci sono due colleghi che sono basati in Senegal eh una collega in Libano una collega che si occupa di Iraq eh quindi insomma facciamo tutti esteri eh dal campo questo è un po' il che facciamo come questo è molto utile perché come sappiamo la copertura della politica estera nel tradizionalmente nelle nostre testate giornalistiche non è molto come dire approfondita ecco mettiamola così ehm i motivi potrebbero essere tanti ma non c'è tempo ovviamente ma sicuramente questo è un dato è un dato di fatto un'altra domanda che è arrivata è dunque se gli stati eh fautori della colonizzazione economica e politica dei paesi del Maghreb eh che peso hanno all'interno dell'Unione Europea e nelle politiche di vicinato quindi come si pone questa ehm questa relazione e e quanta consapevolezza hanno i paesi del Maghreb del fatto che ci sia una sorta di colonizzazione economica e politica in atto ovviamente diversa da quelle del passato ma comunque presente per qualche in qualche modo non so chi vuole rispondere di di voi su questo aspetto mi lancio con un commento ehm certo grazie è una domanda che contiene già una parte di risposta eh discutere di 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 questa domanda interessante ehm come abbiamo cercato di mostrare credo entrambi in maniera diversa ehm quello che succede oggi è il risultato di quello che è successo ieri detto banalmente quindi è difficile spezzare e dire eh non quello che succede oggi non è eh in alcun modo legato a quello che è stata la storia di questo Mediterraneo come dicevo all'inizio che è fatto anche di dominazioni coloniali e quindi inevitabilmente una relazione di rapporti di forza c'è e nella relazione di Arianna e nella mia collega eh è chiaramente emerso per quanto riguarda l'idea che sia l'unica spiegazione sono parzialmente d'accordo nel senso che c'è 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 molto altro e e i rapporti di forza non sono solo quelli coloniali sono magari più ampia regione anche rispetto ad altri paesi non solo la Tunisia la Tunisia è speciale perché è molto legata ai mercati all'Europa ai mercati internazionali altri paesi sono più autonomi e giocano su molte scacchiere quindi in realtà non prenderei la questione coloniale di passato coloniale come l'unica chiave per interpretare il posizionamento oggi però sicuramente eh io li chiamerei veramente rapporti di forza e allargherei lo sguardo a dire ok cosa sta succedendo i paesi europei stessi sono comunque cambiati in alcuni casi no forse in altri casi tanto e e forse guarderei caso per caso se posso aggiungere sono sono d'accordissimo nel senso che poi dipende anche molto da dal paese perché noi teniamo appunto ad unirli questi paesi ma ci sono tante realtà ai contesti diversi penso per esempio appunto al all'Algeria è ovvio che eh in Algeria si può discutere no del rapporto eh anche postcoloniale appunto economico che che esiste ancora con la Francia però eh dipende per esempio appunto sempre molto dai contesti da eh e dalle situazioni è vero io ho portato l'esempio tunisino ma ovviamente insomma eh non è rappresentativo di una realtà di una zona che è ben più più complessa ecco quindi sono assolutamente d'accordo con la collega. La collega mi fa venire in mente una cosa cioè consideriamo anche che gli stati proprio partendo dall'Algeria ma anche la Libia in certi in certi altri casi hanno dei conflitti interni e a volte si intrecciano dinamiche di forza magari di relazioni internazionali con paesi europei con dinamiche interne per cui magari la stessa autorità del paese a Libia, Libia, Occo, eccetera, può anche prendere vantaggio da un certo tipo di anche solo di discorso di rivendicazione coloniale cioè vediamone in entrambe le direzioni ecco questo volevo dire certo certo no ma infatti io trovo che quello che voi avete fatto secondo me in modo molto molto utile è proprio quello di arricchire il quadro conoscitivo perché spesso poi si tendono a dare delle interpretazioni magari anche superficiali rispetto a certe dinamiche perché non si conoscono appunto le dinamiche e il vostro prezioso lavoro è quello anche di andare a vedere l'altro punto di vista no e quindi poter poi giudicare nel bene e nel male le le dinamiche che si creano fra gli stati europei e l'altra sponda del Mediterraneo diciamo andando anche a contestualizzare nei paesi come voi avete ricordato e come secondo me è utile non smettere mai di ricordare poi ognuno di questi paesi ha la sua storia la sua specificità un'altra un altro problema spesso dell'approccio anche europeo verso questi paesi è questa tendenza come giustamente la dottoressa Loschi raccontava nella fase iniziale addirittura ufficiale no di vedere il nord mediterraneo come un blocco cioè la sponda sud del nord Africa come un blocco unico adesso in parte questo non è più vero perché è vero che ci sono accordi specifici però la grossa percezione di molti europei è che comunque stiamo parlando di blocchi comunque unitari dove si può avere politiche simili che non è evidentemente assolutamente vero quindi questo denota soprattutto una scarsa conoscenza direi vediamo se ci sono altre domande ovviamente ora le domande cominciano ad arrivare e il tempo comincia a stringere cerchiamo di scorrere un attimo per vedere se troviamo qualche altra domanda c'è un commento sul tema della delocalizzazione del settore agricolo che come dice uno dei nostri partecipanti in realtà poi porta svantaggi per tutti se non per qualche imprenditore o per qualcuno che evidentemente ha un vantaggio commerciale perché poi ovviamente il prezzo basso del per esempio dell'olio d'oliva che viene dal dalla Tunisia ovviamente in qualche modo non è remunerativo magari nei confronti neanche degli agricoltori non da sovranità alimentare al paese in Europa viene percepito come un problema perché ovviamente mette in difficoltà magari gli olivicoltori italiani e quindi c'è una guerra come dire in qualche modo fra tutti questi soggetti dove poi alla fine i vincitori sono pochissimi e sicuramente ci perdono un po' tutti almeno questa è la percezione tranne quei pochi evidentemente che ne hanno un vantaggio economico diretto ecco qual è un po' la vostra opinione su questo ehm alla luce del citavo questo esempio cioè sono assolutamente d'accordo con questo non volevo eh non penso neanche sia giusto spostare il dibattito su su questo ma è per provare il fatto che appunto ehm questi legami ci sono anche se noi non ce ne accorgiamo no quando compriamo l'olio d'oliva c'è tutto questo dietro eh era per appunto proprio per provare a a a far percepire che che queste relazioni poi arrivano appunto fino a noi ed effettivamente sono d'accordissimo con quello che poi ho letto anch'io appunto questo in questo commento è vero eh ed è il motivo per cui ehm si potrebbe fare una riflessione più ampia no quando eh si si riflette su questi temi che non include sempre solo il nostro ora di corto non perché stiamo parlando di di olio d'oliva ma in senso ovviamente figurato però eh come prova la situazione attuale eh io credo eh si possa iniziare ad ampliare lo sguardo eh in quanto Italia e in quanto Unione Europea ma c'è da dire che eh per aver lavorato come giornalista in altri paesi dell'Unione Europea ehm l'Italia ha sempre questa tendenza a chiudersi un po' su se stessa e a eh leggere anche i propri problemi come specifici all'Italia quando in realtà eh ecco appunto si esempi come questo che sono esempi concreti banali l'olio d'oliva eh raccontano delle storie dietro eh che possono portare a ad una riflessione anche proprio in termini appunto di di legami tra nord e sud del Mediterraneo. Sì grazie eh allora io prenderei un altro paio di domande poi eh chiuderei ed eventualmente e poi comunque i nostri partecipanti possono continuare a inviare le domande che noi magari potremmo girare poi ai relatori anche successivamente quindi solo un altro paio eh pescate un po' da questa lista cercando di seguire un po' l'ordine eh di arrivo eh c'è una domanda una riflessione sulla ehm questione della distanza cioè eh dice uno dei nostri partecipanti si è è vero che la distanza è poca eh però poi di fatto l'economia e gli affari riescono a superare questa distanza mentre poi a livello di dialogo, progresso, cultura, sviluppo questo invece è meno ehm è meno facile eh diciamo colmare questa questa distanza e quindi chiede il nostro eh partecipante come eh diciamo eh c'è forse una diversa concezione, un diverso approccio, si può, qual è la vostra la vostra opinione? Comunque le domande le potete vedere anche direttamente su lasciate io cerco di riassumerle a beneficio di tutti. Prego. Non so chi vuole. Non so chi adesso vuole aggiungere qualcosa. No, io in realtà volevo solo dire che che è una questione di percezione comunque ehm cioè è vero, è vero che si eh è sempre facile appunto stringere accordi commerciali e che vengono che che sono sempre più stretti, sempre più interdipendenti proprio lì dove noi eh dove spesso ehm c'è questa percezione di differenza e lontananza culturale eh che però ehm anche lì è una questione a volte di percezione nel senso che per esempio in Tunisia eh il legame con l'Italia si sente molto ehm questa vicinanza no? Fisica geografica si sente in qualche modo si sente eh si sente perché ehm allo stadio si usano i cori in italiano eh si conoscono le canzoni, prende la radio eh c'è una generazione che si fa chiamare generazione Rai Uno perché eh diciamo si è formata su imparando l'italiano guardando le serie tipo Rex su Rai Uno cioè e e quando uno prende un taxi eh e dice sì sono italiano eh automaticamente la discussione eh va su questo sono cose eh semplici eh banali e quotidiane eh però ehm mi chiedo eh ecco se dall'altro lato mh esiste la stessa percezione e non è così c'è sempre questa 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 sorta di sentimento che ti sale in taxi poniamo invertiamo la situazione sale in taxi un cittadino tunisino eh sarebbe questa la reazione in Italia non lo so eh però ecco è un è una questione di percezione e andrebbe ristudiata la storia io credo perché davvero eh di scambi mediterranei come anche ha detto Chiara eh c'è di scambi di legami eh anche proprio culturali e storici eh mediterranei e in particolar modo tra l'Italia e la Tunisia ma non solo eh ce n'è veramente veramente tanti e e appunto già solo il fatto che eh ci siano lingue che portano al loro interno espressioni in italiano e ci siano cognomi italiani eh qui per esempio eh la dice già lunga su su questi legami che ci dimentichiamo Sì non so se la dottoressa Lotti vuole aggiungere qualcosa Molto rapidamente certe cose parlano più di noi che degli altri nel senso che questa come diceva Poletti la percezione è esattamente la chiave di interpretazione L'esempio della distanza è perfetto per 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 mostrare una serie di contrasti se vai a Pantelle se vai a Cabon vedi l'isola di Pantelleria voglio dire se si va in un appunto preciso della Tunisia si vedono le isole italiane questo ha un impatto visivo simbolicamente anche di aspettativa nella gioventù tunisina molto particolare eh però in realtà ehm vedere questo livello di differenze e attuarle metterle in pratica quando poi noi siamo qui in Italia è forse veramente la nostra storia che andrebbe come si come diceva anche Arianna ristudiata cioè riformuliamo un po' riformuliamo anche la percezione del nostro stesso passato coloniale che a livello di cultura e di dibattito politico livello studiografico i lavori ci sono ma a livello di cultura in senso proprio ampio di pubblico e di dibattito è molto molto scarsa e qui si ricollega a mio parere anche l'idea che l'Italia sia un paese come diceva Arianna un po' chiuso su se stesso una percezione degli esteri molto molto limitata e molto molto eh sclerotizzata su 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 alcuni temi è un'altra storia certo certo no no grazie io credo che francamente le vostre due relazioni mi hanno fatto venire in mente come dicevo anche qualche esperienza personale i progetti di ricerca e per esempio due paesi in cui ho riscontrato ovviamente non l'ho visti tutti i paesi che che affacciano sul Mediterraneo però due paesi dove ho riscontrato questa percezione che voi avete raccontato sono anche io la Tunisia e l'Albania cioè due paesi dove dalla parte loro c'è la percezione che l'Italia sia molto vicina si guarda la tv italiana si ascolta la radio italiana si conosce molto l'Italia da parte nostra c'è una fortissima diffidenza verso questi paesi forse come diceva dottoressa Poletti bisognerebbe fare quello che facevano i siciliani cento anni fa cioè invertire la rotta cominciare a andarci in questi paesi e cominciare a camminare per le strade a parlare con le persone a capire qual è questa percezione e forse anche a questo consentirebbe di amplificare le le vicinanze piuttosto che differenze noi viviamo penso se posso dirlo non sono un sociologo sono un giurista però viviamo una società che nel mediterraneo ha amplificato le differenze in questi ultimi anni se si viaggia per il mediterraneo io noto più similitudini che differenze in tutti i paesi dove sono stato ecco quindi francamente qui c'è proprio una percezione e forse c'è un lavoro da fare enorme sulla narrativa sia a livello europeo ovviamente noi ci occupiamo di cosa fa cosa può fare l'Unione Europea sia a livello italiano perché questa nostra chiusura verso la conoscenza della della politica estera dei nostri vicini è purtroppo un dato endemico eh che 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 io vedo insomma ripeto anche da osservatore eh non privilegiato come voi che studiate questi temi ma comunque ehm diciamo pur partendo da un approccio eh diverso di studi senz'altro l'ho notato anch'io questo ed è molto forte non so se il professor Pasquirucci che è apparso in video vuole vuole dire due parole conclusive io a questo punto vista l'ora mi mi avvierei verso la conclusione c'è qualche altra domanda in chat ma veramente stiamo fuori con i tempi per cui eh invierei le domande e poi eventualmente ce le inviate e noi le faremmo avere relatori ehm e invece chiederei al professor Pasquirucci che pur eh essendo eh insomma oggi stato oggetto di problemi di connessione sicuramente avrà il seminario quindi richiederei due parole conclusive no io in verità non non ho potuto seguire nulla per i problemi di connessione prima per un problema a questo computer che ho risolto solo due minuti fa e poi per i problemi di connessione eh da un'altra postazione tutto quello che posso fare è ringraziare scusarmi ovviamente ma non è dipeso dalla mia volontà e ringraziare Chiara Loschi e Arianna Poletti per i loro per i loro interventi io non ho potuto ascoltarli ma eh sono sicuro che sono stati estremamente interessanti eh perché direttamente o indirettamente eh le conosco eh Chiara Poletti l'ho ascoltata ad un webinar organizzato dall'Università di Missina qualche mese fa e ha presentato una relazione molto molto interessante ed è stato quella ed è stata quella che mi ha eh suggerito di invitarla anche in questa occasione la dottoressa Chiara Loschi non l'avevo mai ascoltata prima e purtroppo non sono riuscito nemmeno oggi però però eh ho delle eccellenti referenze che sono quelle poi che mi hanno indirizzato verso di lei quindi sono sicuro che il seminario è stato interessante il webinar è stato interessante mi scuso di nuovo con tutti per la mia forzata assenza. Va bene no Daniele grazie le tue parole davvero io invece ti ringrazio appunto da aver eh organizzato questo seminario di aver invitato le due relatrici che hanno veramente eh appassionato il pubblico e e veramente è stato molto molto interessante quello che noi siamo riusciti a fare quindi complimenti veramente a alle due relatrici che ringrazio davvero di cuore. Se vedo anche Claudia. Claudia se puoi dire due parole finali e poi. Io volevo semplicemente ringraziare relatori e partecipanti anche tutto lo staff eh degli invadi di Europe Direct che ha lavorato dietro le quinte a questo webinar sicuramente è stato un webinar molto interessante però volevo anche ricordare ai partecipanti che ci sarà una videoregistrazione di questo webinar che sarà inserita all'interno della pagina dedicata a questo webinar eh che avete utilizzato per la registrazione così come saranno rese disponibile eh le slide. Ehm vi saluto perché ormai siamo andati oltre diciamo l'orario consentito e vi ricordo che ci vediamo eh il prossimo giovedì sempre alla stessa ora per parlare sempre dello sguardo degli altri ma il focus sarà su Cina e Russia. Quindi utilizzate sempre la pagina dedicata al webinar del trentuno per iscrivervi cliccando sul pulsantino eh in alto a sinistra rosso. Bene allora chiudiamo grazie ancora alle relatrici vedo anche professor Torino di della Europe Direct Roma 3 che saluto eh Marta Ferrantelli che è collegata anche se non in video della Europe Direct Trafani che anche eh saluto saluto le mie colleghe dell'Università di Siena ehm Angelita Campiani Monica Masti eh Raffaella Scordino già che ci sono eh saluto un po' tutti oggi Raffaella Scordino eh del del Europe Direct Roma Innovazione che insieme alla dottoressa Salvi ehm lavora eh per rendere possibile questa iniziativa e eh ecco apparsa Marta che saluto eh di nuovo e anche Alessandra Flick che ha realizzato il video e che sta realizzando i video molto belli che introducono le nostre lezioni con l'occasione non mi ricordo se l'avevo fatto nei webinar precedenti di ringraziare davvero anche lei di cuore per l'ottimo lavoro che sta facendo che arricchisce la nostra serie di webinar e quindi a questo punto possiamo chiudere e permettetemi anche di ringraziare Ludovico Carino che noi non vediamo al nostro regista che è quello che fa funzionare eh la macchina del webinar e condivide con me la scelta musicale del video di apertura quindi quindi allora grazie a tutti e come ha detto la dottoressa Salvi comunque le registrazioni saranno disponibili per chi non avesse potuto seguire il il webinar grazie ancora a tutti e soprattutto alle nostre due relatrici grazie mille a voi arrivederci 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 grazie mille a voi